Amici 22, anticipazioni 1 grado aprile, un solo ballottaggio tra Samu, Wax e Ramon. L'appuntamento con Amici 2023 torna in onda sabato primo gradi aprile su canale 5, con la messa in onda della terza puntata in onda in prime time dalle 21 e 30 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, nel corso della registrazione di questa settimana, c'è stato spazio per una sola eliminazione definitiva dalla scuola di Maria De Filippi. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata del serale di Amici in programma sabato primo gradi aprile 2023, rivelano che c'è stato un solo addio all'interno della scuola più famosa d'Italia. In queste settimane sono stati sempre due concorrenti ad avere avuto l'appeggio e quindi a dover abbandonare il cast. Ma questa volta è stato uno solo un allievo a dover rinunciare al sogno di accedere alla finalissima. Il ballottaggio finale ha visti i protagonisti Wax, Samu e Ramon, quest'ultimo, però è riuscito a salvarsi e quindi ad avere la meglio al rush conclusivo. Di conseguenza, Wax e Samu si sono ritrovati al ballottaggio eliminatorio, uno dei due dovrà abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi per volere dei giudici in studio. Ospiti in studio di questo terzo appuntamento con il talent show, la coppia di comici composta da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. E poi ancora, le anticipazioni della terza puntata del serale rivelano che per scegliere la squadra che avrebbe dato via alle manche di questa settimana. I tre giudici si sono cimentati nel dover mantenere una posizione di yoga per diversi secondi. alla fine, ad avere la meglio, è stato il ballerino e coreografo Giuseppe Gioffre che ha scelto la busta numero due. Che conteneva all'interno il nome della coppia Cerbi Celentano, che ha dato così il via a questo terzo appuntamento con il serale. Grazie a tutti.